Ziminski e Salvi sono ufficialmente due giocatori del Frosinone. Entrambi arrivano dal Palermo. Centrale polacco, classe 1994 il primo, 31enne tersino destro, con trascorsi anche con la maglia del Cittadella il secondo. Dopo il fallimento della società Rosa Nero, tutti e due arrivano in ciociaria a titolo definitivo. Ziminski ha firmato un triennale, Salvi, un biennale, alla corte di Alessandro Nesta e già sul pullman che ha portato il Frosinone in Trentino, a Ronzone per la seconda parte di ritiro. Arrivano quindi due elementi di buona esperienza nel campionato cadetto, che completano il pacchetto arretrato, dove resta in uscita Luca Krainc, mentre su Niccolò Brighenti, in scadenza nel giugno 2020, continua il forte pressing dell'Ascoli. Pista turca per Rahman Cipsa. In caso di cessione a titolo definitivo del ganese, a Frosinone potrebbe arrivare uno tra Alberto Gerbo, svincolato dal Foggia, o Marcus Roden, in uscita dal Crotone. Affare quasi fatto con la Viterbese per la cessione in prestito del giovane Andrea Enrico, mentre su Michele Volpe è forte il pressing dell'Imo Lese, formazione di Serie C allenata dall'ex tecnico delle giovanili giallazzurre Federico Coppitelli. Il Frosinone, partito nel primo pomeriggio da Ferentino, è arrivato in serata a Ronzone per la seconda fase di ritiro precampionato. Sabato è in programma l'amichevole contro il Lecce.